3, 2, 1, go! Buongiorno ragazzi e ragazzi! Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video! Questo video si tratta di un video in cui vi mostriamo tre intro che abbiamo e una rimarrà definitiva perché ne abbiamo tre ma ne dobbiamo decidere una quindi insieme a voi e appunto troverete il sondaggio dove lo troveranno il sondaggio? Sulla id info! Sulla id info! E troverete e voi cliccherete su quella che vi piace di più Allora, iniziamo con la... È la pezzone dell'unicorno! Dietro in testa ci rimane tutto il giorno Un passo avanti, un giro intorno Ci divertiremo tutti quanti da unicorno! Allora, vai! Quindi... 3! Prima... Aspetta... Intro number 1! Intro number 2! Io faccio così! Intro number 3! Intro number 3! Intro number 3! Quindi ragazzi, questo era il video! Spero vi sia piaciuto! E ne è piaciuto tantissimo! Iscrivetevi a Instagram Marga e Giulia Kawaii 3! Marga e Giulia Kawaii 3! Official! Eeeh! Ci sono un sacco di foto bellissime! Su Facebook Marga e Giulia Kawaii e Rea! Un sacco di informazioni dei video! Tutti quanti! Su secondo canale Maggi TV! Un sacco di video piccino 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 piccino! Quando eravamo piccino! Su musicali chiacciano a Marga e Giulia Rea! Un sacco ma un sacco ma quando dico un sacco di music! E se volete le maglie, le cover, le tasse e tantissime altre cose di tantissimi colori! Andate su www.margaegiulia.it Prima di Giulia! Ricordatevi! No dai Giulia! Ricordatevi! No ah! Ricordatevi che se io Marghe Io Giulia Insieme a voi formiamo la Magic Family! Cioè amore puro! Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale Se non vi è piaciuto invece Aspetta aspetta! Devo fare una cosa! Devo vedere se mi concede il video del video! Facciamo l'enzima! E dai! Alla caputo! E dai! Sì! Allora! Alla caputo! Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale Se invece non vi è piaciuto Shhhhh! Sanusa Sanusa Grazie a tutti per aver guardato il video.